Non te vedo, due tanti Ti tende scherzando Questo prende Mi chiamano Tenenzillo Obazio Spencer Non ti faccio volare io No siamo qui per questo One moment please Fate i video Qui si vedono tutti i canali Italia 1 Mediaset Extra Ma guarda i scaffali Con i neon Sta cosa qui Non lo dite a nessuno Ma è un passaggio segreto Si non è vero Ma è vero Tu non ce l'hai Io si Non ti ho mai detto che Mi chiamano Tenenzillo Obazio Spencer Scherzi a parte Ho messo questi vestiti Con i colori tipo di Kachan Bakugo Amairo Academy Giocherò questo videogioco Soprattutto se ci sono Dei boss In questo momento Ho un boss da dover affrontare In modo che se mincavolo Voi vi divertite invece E stiamo a posto Quindi incazzatura Voi vi divertite A pennello eh Soprattutto io Non so dove sta il pennello Forse non è che C'erai tu il pennello Kirito Bel vestito veramente Potresti darmelo a me Sarà brada Rubo dalla mattia Rubo che C'ho la spada di Star Wars Kirito Chi se ne frega Lo voglio uccidere L'ultima volta Mi ha fatto bestemmiare Oh Sei attento Aaaaaaah No 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 Si No Vieni qua giù Invece E' piccolino E' un adesso Aaaaaah Aaaaaah Aiuto Che vuoi Non lo sta Noo Kurea Kurea Curati Eeeh 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 Sto nanetto Madò Due tacche Due tacche Oh prendi Questo prendi No Kurea Aaaaaah You Aiuto Che vuoi Occup selective Vedi Se tu ti occupi Di quello Almeno gli altri Ti Eeeh 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 ruolo Tuu Madonna Come ti frego Uoooo Vai Mi stiamo per togliere La prima attacca C Telefoni Che tariffa sei Aiuto Fa noi la guida, la diritto. Che torino fa sei? Tim o Vodafone? Aiuto! Oh, come corre? Come corre, oh! Qua sei Tim. Ho la tre. Va, va, va. Prima attacca. Sì, più o meno. Ti togli. Quello lancia pure il bomber. L'ho appena visto. No, riparatevi. Dov'è? Alla destra. Ah, eccolo. Brutto, ma scalzone che fa male. Alla mia signora. Shinji, attento. Il Shinji è morto. Qualcuno lo deve curare. Corea, vai a curare. Non detto. Aiuto. Ok, la cura. Ti ha curato i tuoi equipitos. Mo, che bravo. Visto? In campione. Hai visto il gioco di squadra? Quello mi è passato da male come una Ferrari. Come vai? Mo, grazie, Corea. Tu veramente che sai curare bene le persone? Oh, levati. Oh, bravi, mi sto. Ti tendo a scherzando. Vai, vai, vai che non fai l'ammazzamento. Oddio. Dai con l'ammazzamento. Sì. Dovresti cambiare un po' di... Un po' di... Qua passano molto ciclisti. Cioè, che altro? Una scalinata. Chissà dove porta. Comba, comba, che vuoi prendere in gi... Ecco, a me. Oh, girati. E ti girati. E cavolo, non col... Ah, no, è morto. Mo l'avevo visto. Stavo scendendo il fumo. Tutto fuma. Come mo fuma, no? Oh, non si fuma. E che cavolo. No, qua è tutto fumo e niente arroa. Eremita. Eremita. Oh, oh, oh. Chiamina da Qs. C'è catto. Oh, oh. Ah, qua dice... Quanta bella gente. Cioè, che mirare sarebbe la cosa migliore. Corea, attenta. Brava. Chiamina da Qs. Oh. Aiuto. Ecco. Avete sentito anche un bel rutto. Che suono celestiale. Sì, ma vai, ma... Un lancio a granata. Madò. E ci, Assassin Creed, mi ro... Madò. Attenzione. Ma, ma facciamo un bel acus. Brava. E chi è più forte di me? Ciao. Sì, 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 sì. Vai, facciamo un comand terminator. Vabbè, mi chiedo. Eh, lo so. Eh, sì. Sono esplosioni. Sono fosso dietro a tutti. Sì, vabbè, ma questa è fortuna. Dai. Ma corri, corri. No, no, non ti preoccupi. Corri, basta. Attenzione. È vero. È vero. Aspetta, è la nube che ci... Oh, che cavolo, non me l'ho ricordato. Vai, Kirito. Oh, che cavolo, non ci vedo niente. Dove sono? Aspettato. Oh, una alla volta, per carità. Ho detto una alla volta. Madonna. Capito, aspetta. Oh, almeno qua. Oh, cavolo, 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 cavolo. Dimmi grazie quando avremmo finito qui il lavoro. Oh, c'è Milano. Basta, oh, non fumate. Oh, basta ora. Eh, mamma. Ho lì. Ma vuoi finire? Se non la lanciava non era contento. Rimani con questo fucile perché poi non ti fa cambiare se hai la pistura. Fai opzioni. Scioli, va bene. Ehm, ecco qua. E poi già metti. E questa è la pistura. Tendolo con... Con questo. Oppure, no, no, no. Con questo. Questo qui? No, questo, sì. Scirocco. Sciroppo. Vai. Daria del posto. Ma, no, siamo qui per questo. Ma c'è veramente. Forza. La mimetica. Ma è una pala di cristallo. Uccidi prima questo e poi gli altri. E quello lo faccio. Vai, vai, vai. Ora colpisci al cerchio. Però non c'è la cerchia. No, non c'è. Che colpisce non sarà. Che è il segreto. Oh, il muretto. No. No. Aiuto. No. No, è un valido. Ciao. Bravo, Shinji. Però con la Shinji. No. Se li ho fatti fuori tutti e due! Non mi ammazzano! Non mi ammazzano! Non mi ammazzano! Corea! Mi hanno speso! Non sto alla spiaggia però, ma non stesso! Ma non stesso! Attenzione! Eeeh! 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 C'è colpita! Ti sei che cattà sotto! Si! Aaaaaah! 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 Brava! Riusciami brava! Vieni! Vieni! Ti faccio vedere i sorci verdi! Aaaaaah! Ma quanti soldi! Sono miliardario! Ma il livello 22! Deveva prenderla a set! C'è altro! C'è altro! Achirito però! Achirito vero! A me! Guscio danneggiato! Ma ok! Metti che stava un pinguino dentro! Un pinguino! Una gallina! Un buggerino! Cielo notturno! Mi piace il cielo notturno! Si vedono tante cose belle! Lupus! Della Savanus! Questo lo devi far vedere ad Echil! Quello... Quello... Hai capito? Echil! Quello pelato! Con la barba! Quello ha la voce di Charlie Catter! Quello con le ginocchia punta! Ginocchia punta? Eh! Allora non è lei! Pirata... Delle stelle! Tipo... Capitano Arlok! Sono le otto! Le dodici! Dobbiamo quasi andare a mangiare! Senti! Io quasi quasi ti vengo a prendere alle sette e mezza! Come sette e mezza? Vabbè! Sette un quarto da! Volendo potrei comprarmi qualche altro vestito io proprio! Mi sa che c'ho un bel po' di soldi! Che ne ho? Un bello smoking! Andiamo eleganti a sconfiggere i boss! C'è io devo sconfiggere i boss! Non mi sto vedendo i vestiti! Le abilità! Le cose! Vabbè le abilità! Al supermercato! Più supermercato di questo! Che cosa c'è? Scusa! Copp! Sei tu! Non la faccio catena! Non ho fiera! Siamo ti faccio volare io! Cambia l'arma! E non uccidi con fuori! Sì! Sì! Bravo! Ti faccio scoppiare io! Uccidilo! Uccidilo! Voglio andare! Uccidilo! E dove stassi? Non do strassi! E uccidi a casa! Guarda! L'astra! Non proteggeti! Che ti vuoi! Non proteggeti! Che ti vuoi! Poi! 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 No! Voi! No! Voi! Non proteggete! L'ultima! Quanto bel danno mi ha fatto lui! Tu sei torno! E ora non sono veramente merito! No! Ok! Di questo! Chi vuoi! Scusa! Il mio pariente! Voi! Mi due! va che sanana fuego oh calma Ma che accusi Ah ah Volevi quindi Colpermi Ok non ho risolto niente Ok Fatto Fatto E l'abbiamo sconfitto L'ho sconfitto con la Non con il lancio granate Cioè mi sono voluto divertire in realtà l'ultimo Con Ok Fatto Bravo E' stato bello Questa deve essere la fine Andare al vecchio sud Si Comunque ragazzi abbiamo sconfitto il boss Non sono stato neanche tanto a incavolarmi Pensavo peggio Poi con il lancio granate Cioè Toglieva Moltissima vita E non ben tre attacche Vorrei sottolineare questo E meno Di quanto tempo Non lo so 5 minuti Non credo A massimo 10 minuti Si Carini Ora dove si va Perché qui ci sono Le vespucce Vespucci Non so Guarda quanto fate schifo Oh E' quello Che cavolo Si però dai Questo veramente Se ne va in testa Le persone Non ci capisci niente Ciccio che ti sto sconfiggendo Giusto Ah bene Siete in due Peggio di quelli là Della Sibola Spiderman Oh vi giuro Veramente Vi spezzere il collo Ecco E me l'ho sconfitto Dentro la pietra Oh Belli comodi Il primo Se ne è andato A farsi friggere Vai col secondo Dov'è Stava quell'altro Che aveva Pochissima vita E se ne va Oh Peccato che non sono così Infame come voi Che Me ne vado Dove stai Oh lavoro Vabbè Raga Basta così Perché Oggi abbiamo fatto Abbastanza Perfetto Il primo momento Abbiamo finito Poi magari Ci saranno Come vi ho detto Altre puntate Più che altro Se devo sconfiggere Un boss Noi ci vediamo Con il prossimo video Spero che questo video Vi sia piaciuto Se così è stato Mettete un bel mi piace Commentate E iscrivetevi Se non è ancora fatto Ciao